Oggi prepariamo una buonissima besciamella facile e veloce. Prendi una casseruola e sciogli 50 grammi di burro. Aggiungi 50 grammi di farina setacciata e mescola con una frusta. Quando saranno ben amalgamati, versa a filo 500 ml di latte, sempre mescolando. Fai cuocere per qualche minuto e aggiungi un pizzico di noce moscata e sale quanto basta e continua a mescolare fino a quando non raggiunge la densità desiderata. Se vuoi prepararla in microonde, clicca sul link in alto a destra. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscrivilo nei commenti e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella.